Prima di prendere qualsiasi decisione sulla diga in Valsessera si dovrà attendere alla discussione del progetto in consiglio. Questo è quanto è stato deciso ieri durante il consiglio provinciale di Biella che ha visto un acceso scontro politico tutto interno a un centro-sinistra. Ma andiamo con ordine. La mozione sulla realizzazione della seconda diga in Valsessera era stata firmata dai consiglieri del Partito Democratico, da alcuni della Lega Nord e da Giuseppe Leardi, capogruppo della destra. A tendere il tranello ai consiglieri democratici è stato Silvio Belletti, capogruppo della sinistra. Il consigliere ha presentato un emendamento alla mozione col quale si richiedeva di chiedere un'audizione del consorzio Baraggia al fine di capire esattamente quali siano le compensazioni territoriali, dopodiché si potrebbe decidere. Passo questo apprezzato e votato dalla maggioranza di centrodestra, i consiglieri del PD, infuriati per aver visto stravolgere la loro mozione, hanno abbandonato l'aula, seguiti dalla destra. Vilma Ronzani ha attaccato Belletti, prendo atto che in provincia è nato un nuovo asse, Belletti-Simonetti-Fava. Grazie. Grazie.